Campania in zona arancione. La decisione è stata presa venerdì dal ministro della salute Roberto Speranza dopo gli ultimi dati pervenuti alla cabina di regia per il controllo del contagio ed è entrata in vigore ieri. Cambia quindi la zona di criticità e di conseguenza si può assistere alle prime riaperture e agli esercizi frenati dalla zona rossa. Restano chiusi bar e ristoranti per i quali è consentito solo il servizio d'asporto e la consegna a domicilio, ma riaprono i negozi non essenziali, in particolare quelli di abbigliamento. Scompare anche la limitazione alla mobilità cittadina. Si potrà circolare liberamente all'interno del proprio comune fino alle 22 di sera, orario in cui in tutta Italia scatta il coprifuoco. Tuttavia in zona arancione è previsto ancora il divieto dei spostamenti fra comuni diversi, salvo comprovate esigenze. I più speranzosi a Napoli sono titolari e dipendenti ai negozi che hanno potuto realzare le saracinesche. Vetrine rimesse a lucido, porte aperte, ma anche regole affisse alla porta per mascherine e distanziamento per negozi di abbigliamento, scarpe e gioiellerie. Apertura dominicale prenatalizia ma pesantemente condizionata al nubifraggio mattutino e successivamente dalla pioggia che ha lasciato solo pochi spiragli. Poca la gente in strada per lo shopping. Si riparte con la speranza che con l'avvicinarsi del Natale ed il miglioramento della situazione sanitaria le vendite possano registrare un'impennata. Prime indiscrezioni infatti fanno sperare in un ulteriore alleggerimento delle misure già per la prossima settimana, quando la campagna dovrebbe già tornare in zona gialla.